Nel video di oggi, ragazzi, vi porto con me nella mia vita da nomade a Tbilisi, nei miei esperimenti con il georgiano, nella mia routine e nella mia quotidianità. La Georgia è stupenda e Tbilisi è una città che in poco tempo mi è già entrata nel cuore. Dai che si comincia! Aeroporto di Danzica, ragazzi, sto aspettando il volo per Kutaisi e oggi vi porto con me a fare un giro per la Georgia. Stiamo pronti? Dai, che si comincia! Sono arrivato ieri sera a Kutaisi, si sta bene, devo dire, pensavo un caddo tremendo, in realtà venendo dall'Italia, dove c'erano 38 gradi, qua si stava bene, ha piovigginato un po' ieri sera, quindi ha rinfrescato. La città è carina, c'ero già stato, abbastanza distrutta, sono stato al mercato, mi ha ricordato tantissimo la Bolivia, perché il mercato è molto molto simile, se non fosse per la frutta, che è diversa alla Bolivia. È interessante perché ci sono due birrerie tedesche di Monaco, quindi non so perché hanno deciso di aprire qui una filiale. Magari ci sono tanti turisti tedeschi, non lo so. Comunque adesso inizierò ad esplorare un po'. Ieri sera sul Pullman, sul Pullmino, la Marschrutka. La chiamano qua dei mini van, diciamo. Venendo in qua ho conosciuto anche un ragazzo australiano, siamo andati a bersci una birra, in realtà volevamo mangiare qualcosa, ma a mezzanotte, l'unico posto aperto, 24 ore, 7 giorni su 7, ci ha detto che c'era da aspettare un'ora e mezza per mangiare qualcosa, allora abbiamo detto dai prendiamo qualcosa da bere e poi ci andiamo a dormire e così abbiamo fatto. È stato simpatico comunque perché sono appena arrivato, non conosci nessuno, ho conosciuto lui al volo e abbiamo fatto due chiacchiere, è stata una serata interessante. La roba più interessante da vedere a Kutaisi è la cattedrale, che sta su una collina ed è patrimonio unesco. Io ce l'ho stato già tre anni fa, quindi oggi non vado su, in realtà è una breve sosta per non farmela tutta dall'aeroporto di Kutaisi fino a Tbilisi, quindi in un attimo già vado a cercare il Pullman e vado verso la capitale. La prima settimana in Georgia è stata molto interessante, devo dire. Ho organizzato come al solito già il mio incontro di Language Exchange, dove ho conosciuto un po' di gente interessante, abbiamo chiacchierato, eravamo sette o otto un po' da tutto il mondo, c'era anche un ragazzo austriaco con cui abbiamo parlato un po' in dialetto e un americano che ha vissuto in Austria, quindi anche con lui un po' di dialetto austriaco siamo riusciti a parlarlo, non avrei mai pensato di poter parlare dialetto austriaco nel mio Language Exchange a Belisi. Il giorno dopo mi sono riunito, diciamo, con un gruppo invece di italiano, quindi è stato carino vedere, anche lì eravamo sette, otto persone, un italiano che organizzava, che vive da tipo quattro anni a Tbilisi e un po' di persone che stavano imparando la lingua di Dante, il nostro italiano, è stato carino, è stato interessante e penso che ci ritornerò a qualche altro incontro in futuro. Ho fatto un wine tour, che in realtà non era soltanto un wine tour, ma abbiamo visitato un paio di altre città, ho fatto un video, ve l'ho già raccontato, vi consiglio di dare un occhio a questa agenzia, ce ne sono sicuramente tante a Tbilisi, ma con questa qua onestamente mi sono trovato bene. Se venite in Georgia e siete a Tbilisi e non volete noleggiare una macchina o muovervi troppo, prendere un tour e fare escursioni e tornare indietro a Tbilisi la sera è un ottimo modo per esplorare la Georgia e conoscere un po' meglio, diciamo, il paese al di fuori della capitale. Adesso sto aspettando David, che è il mio insegnante di georgiano, ci incontriamo qui al parco e cammineremo un po' per la città e lui mi spiega un pochino di vocaboli, perché ovviamente guardando le cose, ad esempio, ti dico questo qua è un albero, questa è una fontana e lo faccio davanti alla fontana, davanti all'albero, l'esperienza è molto più forte, è molto più semplice ricordare le cose, è un esperimento perché non l'ho mai fatto, se non per due, tre minuti, magari al parco, con qualche amico. Come dico sempre io, ragazzi, cerchiamo sempre di sperimentare, sperimentare, sperimentare. Per quanto riguarda il lavoro, invece anche qui tutto bene, il co-working è carino, è gigante, è molto moderno, la gente è molto disponibile, molto simpatica, mi sono trovato bene anche lì, sto facendo un corso per migliorare un po' il mio public speaking, perché oramai do molto spesso presentazioni, non solo sul lavoro, ma anche abbiamo visto l'Istituto Italiano della Cultura, piuttosto che vorrei organizzarne un'altra qui a Tbilisi, quindi ho deciso di migliorare anche questo aspetto, penso che farò qualche video anche sul canale, in cui magari faccio qualche prova e mi esercito un pochino, sarà divertente per voi, vederlo. Cello? Certi gli AMQ Come time? Certi gli AMQ Cerdilli Cerdilli Cire? Sk ir universal Scanchi 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 Ok, come va bene I punti, come va bene, come va bene... come si chiama il cielo? Amar? 2 2 2 3 2 3 3 3 3 è il cielo 3 è il cielo il cielo è il cielo il cielo il cielo come si chiama il cielo? perizia ogni volta che c'è un language exchange ragazzi voglio andarci sbaglio il giorno perché ho visto su instagram che c'era questo evento facevamo un language exchange tipo fatto come pub crawl dove giravano 3 o 4 bar parlando varie lingue arrivo e in realtà mi sono accorto che era la settimana scorsa e questa settimana è di sabato niente però ho scoperto questo posto bellissimo stamba si chiama se venite a Tbilisi andate a vederlo era una vecchia casa editrice pubblicavano i libri e adesso c'è dentro un hotel c'è un bar c'è un rooftop con la piscina c'è una libreria c'è un co-working per lavorare è fighissimo ho condiviso su instagram qualche foto date un occhio ma bellissimo come l'hanno completamente rinnovato tutta Tbilisi è piena di vialoni giganti tanto che per attraversare la strada ci sono questi sottopassaggi che sembrano brutti e poco sicuri in realtà non c'è nessun problema è uno dei paesi più sicuri al mondo leggevo online da qualche parte non c'è nessuno problemi e nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno è da né attivni sicuramente dada quando sprasci voi mi sono appena fatto una maniata incredibile ragazzi mi hanno portato tipo una specie di polenta col formaggio lo spezzatino che in realtà una parte del collo mi hanno spiegato del maiale buonissimo una torta col miele le noci ideali mi sembra che si chiama che era ideale in effetti cose dell'altro mondo a me piace un sacco la cucina giorgiana sono contentissimo tra l'altro il posto ha un giardino internet con anche le prese uno può sta fuori si mette giù un po' a lavorare occhio che i cani hanno lasciato un po' di ricordini penso che ci tornerò perché è a 50 metri da casa è un campo minato ogni tanto in georgia bisogna stare attenti dove si cammina queste quindi sono state le mie prime due settimane a bilisi le mie prime impressioni della città devo dire in generale molto molto positive super internazionale la città c'è un vibe unico secondo me è molto molto interessante ragazzi so già e lo dico tranquillamente che una parte il mio cuore rimarrà in georgia in realtà c'era rimasta tre quattro anni fa quando sono stato in georgia per la prima volta e l'ho in qualche modo ritrovata perché questa è la città però in realtà sono le montagne in georgia che io amo la gente il cibo le tradizioni la convivialità credo che sia il termine giusto che descrive la cultura georgiana ragazzi vi rimando al video dove mi sono fatto una passeggiata in montagna e la natura è stata semplicemente mozzafiato un abbraccio grande e a prestissimo